I messaggi universali quali l'amicizia, l'ambiente e l'inclusione che sono stati trattati all'interno della prima edizione del Castellabate Film Festival devono essere curati e bisogna custodirli per avere rispetto anche del territorio in cui si vive. Sono queste le parole della dirigente scolastica Gina Moriello che, soddisfatta dell'iniziativa, commenta positivamente il lavoro svolto in sinergia. Il Castellabate Film Festival è una bellissima iniziativa, questa è la prima edizione, ci auguriamo che l'anno prossimo possa crescere e magari con tematiche nuove oppure con quelle di quest'anno che hanno visto attraverso anche la cura dei contenuti disciplinari la cura delle competenze di cittadinanza. Quando parliamo di amicizia, di inclusione, di territorio, un territorio così bello e stupendo come quello di Castellabate dove io sono di Agropoli ma sto benissimo qua e vi ringrazio per l'accoglienza che mi avete fatto dal primo momento lo dobbiamo curare in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi anche nelle classi, anche durante le attività didattiche noi facciamo sì che i nostri ragazzi possano capire l'importanza del rispetto del territorio e degli ambienti che loro frequentano e in cui loro vivono e farsi appunto portatori di questo messaggio anche fuori dalla scuola. La prima edizione del Castellabate Film Festival è stata anche l'occasione per far rivivere la memoria di una grande donna che nel comune di Castellabate ha lasciato il segno, Flora Guida, che ha dedicato il suo tempo ai bambini e all'insegnamento e ai valori veri della vita. A lei è stato dedicato il trofeo Flora Guida assegnato al migliore attore e alla migliore attrice degli spot in concorso. Sono davvero emozionata perché mia madre è stata descritta proprio per quello che era e quindi era una grande donna, una donna coraggiosa, una donna che ha sempre guardato oltre e quindi non si è mai fermata ma ha avuto sempre il coraggio di sperimentarsi e sperimentare con i bambini nuove strade. Quindi grazie moltissimo per quello che è stato fatto e è stato detto. Mamma ha fatto delle cose incredibili con una naturalezza enorme, ci ha insegnato ad accogliere, l'altro ad andare incontro senza nessuna ma differenza, bianco, nero, ricco, povero. Mamma è stata questa, quando vedeva qualcuno in difficoltà si avvicinava e questo fatto soprattutto in questo momento è fondamentale e sono veramente contento e orgoglioso di essere figlio di Guida Flora. Volevo ringraziare per questa serata Elisabetta Martuscelli, il sindaco, la dirigente di Castellabate perché è Gianni Petrizzo perché si è impegnato in modo particolare a vivere e a capire quello che era Flora Guida. Gianni è riuscito in questo filmato a far passare questo messaggio. Flora Guida era avanti. E la cosa più bella è che in questo momento noi ci troviamo con Enrico che era parte integrante della nostra famiglia e le fotografie sono state tutte scelte in modo specifico. Grazie. 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 Grazie.